Salve a tutti, con grande sospanza ti presento un video pieno di anticipazioni sulla promessa, dove il mistero che avvolge Gian e suo fratello diventa sempre più avvincente. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Il barone pianifica di visitare il palazzo in compagnia del nipote Curro. L'obiettivo è godersi alcuni giorni di lusso nella residenza, ma a malinteso con la domestica Pia scatena la rabbia del barone, che decide di partire all'improvviso senza dare spiegazioni con Vincenzi e sua figlia Cruz. Questa mossa è finalizzata a non sollevare sospetti, ma purtroppo impedisce anche a Gianna di incontrare il suo presunto fratello. La giovane tenta di lasciare la promessa, dichiarando di doversi occupare di un parente malato a Valencia. In realtà Gianna è determinata a trovare suo fratello e questa ricerca l'angoscia profondamente. Desidera saperne di più su Curro, pensando che possa essere suo fratello scomparso, Marcos. Nel frattempo Maria, venuta a sapere della scomparsa della foto e dell'anello di Thomas, è convinta che sia giunto il momento di raccontare tutta la verità a Gianna. La ragazza vuole trovare suo fratello e far luce sugli autori del terribile destino di sua madre. Maria informa Gianna che Curro rimarrà a lungo alla promessa, il che fa desistere Gianna dal suo piano di partire. Nel frattempo Maria cerca di scoprire di più sull'arrivo di Curro e la reazione sospetta di Romulo. Fa sospettare a Gianna che il ragazzo maggiordomo possa nascondere informazioni riguardo all'infanzia del ragazzo. Gianna e Maria decino di sbarazzarsi dell'anello compromettente di Thomas, gettandolo nel lavandino intasato del bagno di Jimena. Finalmente Gianna riesce ad incontrare il signor Curro quando arriva la promessa, ma lui non la riconosce. Maria cerca di tranquillizzare Gianna e le suggerisce di cercare un'occasione migliore per stare da sola con lui, al fine di poter parlare e conoscersi meglio. La protagonista si confronta con il dilemma di allontanarsi da Manuel, mentre cerca di instaurare un dialogo con Curro che la tratta con grande disprezzo. Gianna è determinata a scoprire se Curro è suo fratello e ben presto si rende conto che il carattere capriccioso e quasi tirannico del giovane potrebbe metterla in pericolo. Curro umilia Gianna, lanciandolo in vassoio e obbligandola a chiedere scusa. Nei prossimi episodi della promessa, Gianna non si arrenderà di fronte all'avversità, fino a quando Curro non riconoscerà finalmente il legame fraterno che li unisce. Curro nutre un profondo disprezzo per Gianna e cerca in ogni modo di farglielo capire all'interno della serra. Tuttavia la giovane cameriera non si lascia intimidire e affronta il giovane con coraggio. La situazione diventa sempre più tesa e Curro perde il controllo della sua rabbia, arrivando persino a minacciare Gianna fisicamente. Per fortuna l'intervento di Manuel impedisce a Curro di sfogare la sua violenza su Gianna. Il marchese Suana si inserisce nella vicenda e rimproverà spramente Curro per il suo comportamento inaccettabile. Ordina che Gianna venga chiamata per dare la sua versione dei fatti e che Curro le chieda perdono. L'atmosfera è carica di tensione e le conseguenze del confronto sembrano inevitabili. Inaspettatamente Curro rimane coinvolto in un incidente nell'hangar e viene accidentalmente avvolto dalle fiamme. Gianna riesce a salvarlo, ma questo evento tragico conferma definitivamente che Curro è il fratellino perduto di Gianna, Marcos. Tuttavia Gianna si rende conto che Marcos si è trasformato in un tiranno frustato e insopportabile. Nonostante ciò, persiste la speranza di disestare un po' di umanità nel cuore di Marcos. La promessa viene scossa dall'arrivo di una donna che si presenta come la presunta madre di Curro, donna Eugenia. Tuttavia lo stato di salute di Eugenia è molto peggiore di quanto si potesse immaginare. La donna non riconosce nessuno e inizia a ridere senza motivo, completamente estraniata dalla realtà. Gianna è preoccupata perché in questo stato Eugenia non potrà mai rivelarle nulla sul passato legato alla madre e al fratello. Gianna cerca di essere scelta per prendersi cura di Eugenia e ottenere informazioni, ma Cruz rifiuta e Maria sarà lei a occuparsi della donna. Gianna propone a Maria di ridurre le dose di farmaci che Eugenia assume nel tentativo di renderla più lucida e consapevole, evitando che trascorra le giornate in uno stato di torpore. Tuttavia Eugenia subisce un nuovo esauramento nervoso quando confonde Gianna con sua madre Dolores. Quest'episodio sollevo ulteriori domande sulla connessione tra Gianna, la madre Eugenia e i segreti celati nel passato. Le prossime anticipazioni sveleranno cosa si nasconde dietro a questo mistero e le sue conseguenze per il futuro degli intrighi e della promessa. Questa anticipazione finisce qua. Se ti va scrivimi nei commenti cosa ne pensi e non dimenticare di iscriverti al canale e lasciarmi un like, così non perderai le prossime anticipazioni di questa nuova serie. A presto! Ciao!